Ho iniziato a lavorare sui videogiochi, all'epoca era tutto molto più complicato, molto più difficile, non c'erano neanche i file audio, si andava proprio su nulla. Bisognava immaginare molto quello che accadeva, non era facile. Devo dire che piano piano, però nel tempo, fortunatamente un pochino le cose sono cambiate e oggi abbiamo delle informazioni di più, più informazioni diciamo rispetto a quello che non c'era ieri e quindi diciamo che il lavoro si è un pochino più semplificato. Però quello io dico sempre e continuo a dirlo perché mi piace doppiare i videogiochi, fateci vedere firme perché se lo vediamo viene ancora meglio. Allora, il mondo dei videogiochi, diciamo che forse le società hanno preso più consapevolezza del fatto che il videogioco, al contrario del film, che tu magari vedi una volta, sì, forse due, tre, ma non ci stai a stretto contatto, come col videogioco, ha bisogno di un doppiaggio eccellente, di un doppiaggio che conquisti il giocatore. Ecco, in questo sta cominciando un pochino a cambiare, quindi i prodotti cominciano a diventare più interessanti anche sotto il profilo dell'audio. Allora, di cyberpunk ho cominciato da poco a fare il doppiaggio, quindi non so moltissimo, anche perché io poi preferisco non sapere troppo in anticipo la storia del film, ma seguirla mano a mano, di cyberpunk sono molto dal pubblico, perché il pubblico, quando è uscita la notizia appunto di questo gioco che era stato poi doppiato da Keanu Reeves, c'è stata una sollevazione popolare e quindi mi hanno spiegato, io poi chiedevo ma cos'è il cyberpunk, non avevo capito, mi pensavo fosse un film piuttosto che un videogioco. Da quello che ho capito deve essere una bomba. Allora, il mio rapporto con i videogiochi, vabbè, io sono di una generazione dove c'era ton, 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 vi ricordate il tennis, no? Che ci passavamo le ore con queste due asticelle, cioè quindi da allora oggi le cose sono molto cambiate. Non sono mai stato un grande giocatore, però ho avuto dei figli che invece mia figlia, mio figlio, mia figlia Gwendalina, mio figlio Lupo, sono stati dei grandi giocatori, lo sono ancora, quindi spesso mi è capitato a volte di giocare con loro, di comunque di seguirli questi videogiochi oltre che addoppiarli. Sono una costante a casa. Per quanto riguarda invece l'immedesimazione del, diciamo, entrare dentro il personaggio, non è semplice, non è facile, ma non è impossibile. È come quando si facevano una volta, qualcuno se lo ricorderà, i radiodrammi. Dovevamo costruire un personaggio da nulla. In effetti col videogioco è un po' così perché noi non abbiamo le immagini, però il racconto del videogioco, la storia, ti dà la possibilità di entrare nel personaggio. In Cyberpunk poi il personaggio che interpreta Keanu Reeves è un personaggio particolare, che ha mille sfaccettature e questa è una cosa assolutamente interessante e coinvolgente. Ecco, quando poi esce il videogioco il primo pensiero va a chi ne usufruirà di quel videogioco, quindi sono più che altri ragazzi, giovani, no? E sapere che poi sono stati loro a battersi perché io doppiassi questo cyberpunk mi fa un enorme piacere. E qual è la sensazione? Sperare, cioè quello che sento io, è sperare di aver fatto un ottimo lavoro. Che loro giocando il videogioco questa voce li accompagni, ma li accompagni realmente dentro il videogioco. Questa è la cosa più bella e più importante perché poi lui la ascolterà per centinaia di ore. È pazzesco e quindi io diventerò estremamente familiare per lui. E questa per me è una cosa fantastica. Allora, per riuscire a rendere credibile un personaggio bisogna dargli vita. Questi videogiochi, se noi li vediamo, li guardiamo, sembrano reali. Più sale ovviamente la qualità visiva del videogioco, non solo la complessità del videogioco, ma la qualità, più c'è bisogno che siano gli attori stessi a entrare dentro i personaggi. Perché questo dà la possibilità a chi ascolta di sentire realmente un film. Altrimenti diventa una cosa che cozza, no? Tu hai delle immagini meravigliose con un audio che non ti soddisfa, che non ti porta dentro. È come un film. Pensate, che ne so, al gladiatore, se invece di farlo, non so, grandi professionisti, l'avessero fatto dei principianti. Non sarebbe rimasto nulla. E lo stesso dovrebbe essere, secondo me, per i videogiochi. Ma io credo che i videogiochi inevitabilmente dovranno fare per forza i conti poi con le grandi star. Perché? Perché gli danno la possibilità a questi attori, da chi hanno inizio, ce ne sono tanti, gli attori sono centinaia, danno poi una qualità che è gigantesca al prodotto. Quando vediamo sul set Anthony Hawkins, sentiamo anche questa voce meravigliosa, il suo modo di recitare. Quindi io credo che il videogioco non possa prescindere proprio da là. Perché all'inizio, tanti anni fa, si facevano i doppiaggi dei videogiochi così, un po', chi c'è c'è, chi non c'è non c'è, pagati poco, con non professionisti. E devo dire che la differenza è enorme. Beh, è facile convincere il pubblico che io sono Johnny Silver, doppio Chiano Reels dal 1994. La preparazione? Facilissimo. La prima preoccupazione qual è? Non aver lasciato l'auto in doppia fila, perché se non prendo la volta. Poi, come mi preparo alla fine? Faccio l'attore. Facendo l'attore, cerco di immaginare come Chiano Reels ha fatto questo ruolo. So che uomo è, come si prepara, come pensa, qual è il suo pensiero, che è meraviglioso. Il fatto che poi il personaggio sia un rivoluzionario, uno anti-sistema, uno anti, come si dice oggi, establishment. Questo mi fa ritornare addirittura indietro nella mia storia di uomo a 30-40 anni fa, quando eravamo tutti contro. E quindi questo mi dà la possibilità di doppiare un personaggio che in qualche modo mi somiglia. Quindi forse la difficoltà, alla fine, non c'è. E come direbbe Johnny Silveren, abbiamo una città da radere al suolo. Venite con noi.